La collocazione della festa di San Giuseppe nel calendario fa sì che in piena quaresima la liturgia ci proponga un brano dalle fasi iniziali del racconto di Matteo. Gesù che nel Vangelo dei giorni scorsi abbiamo visto impegnato a discutere con i giudei sulla propria divinità e sul suo essere portatore della nuova alleanza, in questo brano non compare nemmeno. Compare Giuseppe, giudeo di origine, osservante della legge, uomo giusto. Giuseppe sceglie di non ripudiare pubblicamente Maria per evitare naturalmente la lapidazione. In un certo senso lui e la promessa sposa sono i primi personaggi del Nuovo Testamento ad agire secondo il primato della coscienza. Al di là delle circostanze, delle regole, delle convenzioni, esiste un bene superiore che si identifica con la difesa della vita, soprattutto quando essa è debole e minacciata. I giudei sapienti e distruiti che abbiamo incontrato nel Vangelo dei giorni scorsi difendono tante idee personali di bene perché il loro cuore è piccolo, inaridito. Giuseppe, il falegname di Nazareth, è l'uomo dal cuore grande. Nella sua semplicità è già proteso verso il bene universale che viene da Dio. Chiediamo al Signore di essere saggi e pazienti nel cercare di capire la sua volontà nelle nostre vite. Buona giornata a tutti!